Si accendono i riflettori sulla terza edizione del premio Gran Galà dello Sport a città di Castiglion Fiorentino, in programma giovedì al Teatro Spina alle ore 21. Tra i premiati nomi legati al mondo del calcio come Carlo Ancelotti e Paolo Maldini, ma anche i grandi del ciclismo come Alessandro Petacchi e del pugilato come Orlando Fior di Giglio. È frutto di una scommessa che a questo punto possiamo dire di averla vinta, quando abbiamo ideato per la prima volta il Gran Galà dello Sport a città di Castiglion Fiorentino. Abbiamo voluto creare questo evento proprio come inno allo sport, anche grazie al fatto che illustri cittadini che oggi non sono più qui tra noi hanno lasciato un segno indelebile. Mi riferisco a Corrado Viciani, il grande allenatore della Ternana dei Miracoli e a Fabrizio Meoni, uomini che hanno fatto la storia sia per le loro qualità umane che per i loro risultati sportivi. Da loro poi abbiamo abbinato, grazie alla disponibilità delle famiglie, altri cinque riconoscimenti per altre tante discipline sportive e quindi il parterre si è arricchito molto con i nostri sette premi che sono il premio Mario D'Agata per la boxe al nostro Orlando Fior di Giglio, il premio Vigor Bovolenta per la pallavolo che quest'anno diamo al grande Lorenzo Bernardi, il premio Alfredo Martini, il grande commissario tecnico della Nazionale Ciclismo ad Alessandro Petacchi, Stefano Passeri invece campione di motocross che riceverà il premio Fabrizio Meoni, un giovane emergente scelto per il premio Federico Luzzi che è Lorenzo Musetti e il calcio, come detto, ci porta alla blasone e forse ad elevare e a consacrare questa manifestazione perché il premio Bruno Beatrice viene consegnato quest'anno a Paolo Maldini, anche questo insomma c'è poco da aggiungere, con un uomo dei record che vorrei definire così, che è mister Carlo Ancelotti che riceverà il premio Viciani, un allenatore che ha vinto cinque scudetti, non ha vinto di più ma ha vinto nei principali campionati, europei a Londra, Parigi, Madrid, Monaco e in Italia, quindi credo uno dei testimoni all'italiano dello sport a livello europeo più affermati.